Quella che la salute avviene prima di tutto, però prima di parlare di eventuali nuove chiusure il governo deve garantire rimborsi immediati a tutte le attività danneggiate. Non puoi lanciare 15 giorni fa la lotteria degli scontrini e puoi stupirti se gli italiani vanno a fare spese in negozio. Quindi non si scherza con la salute, con la vita e con il lavoro delle persone. Con le chiusure si alberga? È quello che stavo dicendo. Qualsiasi nuova chiusura deve essere accompagnata da rimborsi immediati sul modello tedesco. Se si invoca il modello tedesco si ricorda che in Germania risarciscono fino all'80% del mancato fatturato. È impensabile che il governo a qualcuno pensi di chiudere i negozi sabato e domenica devastando città e famiglie. Aspettiamo le proposte del governo, siamo disponibili alla regione di tutto, però ripeto non ci fidiamo più delle parole e delle promesse. E sulle ipotetiche chiusure per Natale? Anche su questo ci spieghino come, dove, quando e perché. Perché qua c'è gente che ha prenotato il biglietto del treno, c'è gente che non vede i familiari e i genitori da mesi. L'Italia è la patria dei piccoli comuni, 8 italiani su 10 vigoli in piccoli comuni. Un conto è dire non ti muovi da Roma, dove in ogni caso hai 1300 km quadrati all'interno dei quali muoverti. Un conto è chiuderti in casa in Aspromonte o sui Dolomiti in comuni di 300 abitanti. Quindi la salute è fondamentale, ma non può cancellare il diritto alla famiglia, il diritto al lavoro e il diritto all'affetto. Grazie a voi.